Piazzo la mina a pressione. Mina a pressione pronta. Posizionata. Mina a pressione in posizione. Mina a pressione andata. Mina a pressione distrutta. Mina anti-uomo neutralizzata. Mina a pressione rimossa. Violato. Violazione riuscita. Ecco fatto. Sono dentro. Non abbiamo dato il massimo. Poche storie. Ci riproveremo. Gli obiettivi ci sono sfuggiti. Concentriamoci. Teniamoci pronti. Questa storia finirà solo quando vinceremo. Dovevamo seguire quel cazzo di piano. Che schifo. Ci hanno fatto il culo. Missione fallita. Richiedo estrazione immediata. Qui occorre un recupero d'emergenza. Trovare il nemico, avvicinarsi e distruggere. Facciamo un po' di casino. Fanteria meccanizzata. La punta della lancia. Dai, dai, all'attacco. Tu non c'eri al briefing. Vuoi dirmi da chi prendi ordini? Fanculo le attività speciali. Ehi, qui non comandi un cazzo di niente. Rovinaci la festa con una delle tue stronzate e te la vedrai con me, lupo solitario di merda. Affermativo. Abbiamo l'artiglieria. Bene. Bene. Iniziamo a fare casino. Urra! Ricevuto, vedetta. Dammi un bersaglio e lo distruggerò. Sono con te. Picchiarli. Li mando all'inferno. Qualcuno si farà molto male. Ok, ok. Chi ne ammazza di più beve gratis. Dici? Vediamo che sai fare. Sei pronto, eh? Andiamo a falciarli tutti. A me importa solo ammazzarli. Andiamo. Ricevuto. Armi pronte. Vuoi dirlo forte? Senza dubbio. Io li ammazzerei anche prima. Al lavoro. Cominciamo bene. Guarda, ce n'è una proprio qui. Meglio un approccio più diretto. Bah, non faccio tanto lo schizzinoso. Che cazzo te ne fai di tutta quella roba? Ehi, meglio non affidarsi troppo a quella roba. E non sbattere contro la porta mentre esci. Sicuro? Rovinare è la mia specialità. La forza bruta è sempre la risposta. Gli abbiamo fatto il culo. Adesso marciranno all'inferno. Devastati! Adesso debriefing e riassegnazione immediata. Lancio! Lancio un esplosivo! Lancio il C4! C4 in campo! C4 neutralizzato. C4 distrutto. Carica distrutta. Addio al C4. Stordente! Uso una stordente! Farà un bel botto. Carico un EMP. EMP lanciata. EMP! Impulso in arrivo. Flashbang! Flashbang! Uso una flashbang! Lancio una flashbang! I miei occhi! Cazzo, sono cieco! Addio occhi! Non vedo un cazzo! Lancio una granata! Tiro una granata! Granata! Granata partita! Granata! Granata! Granata su di noi! Overdrive pronto. Pronto al blitz. Overdrive pronto a far danni. Scatto assistito al massimo. Li ho seminati. Velocità normale ripristinata. Overdrive terminato. Travolti. Schianto gravitazionale a disposizione. Schianto gravitazionale carico. Schianto... pronto a schiantarli. Sono rovinati. Massacro! Nuclearizzati! Roba che spacca! Urrà! Ora sono cazzi i vostri! Cazzo, che roba! Sì, così si fa. Fenomenale! Ha 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 ha! Questa ci voleva proprio! Termite lanciata! Lancio una termite! Termite in azione! Termite accesa! Termite! Carica termite! Termite in arrivo! È una termite! Spectre a terra. Spectre ucciso. Assassino fuori dai giochi. Spectre morto. Batterie a terra. Batterie K.O. Corazzata K.O. Batterie abbattuta. Minaccia rimossa. Eliminato. Centrato. Steso. Minaccia risolta. Nemico a terra. Sparito. Preso. Centro confermato. Uccisione confermata. Bersaglio a terra. Outrider a terra. Vedetta a terra. Outrider eliminata. Osservatore ucciso. Firebreak a terra. Firebreak fuorigioco. Firebreak eliminato. Firebreak domato. Reaper a terra. Distrutto. Reaper guasto. Reaper eliminato. Seraf a terra. Gangster uccisa. Seraf eliminata. È morta. Cecchino a terra. Cecchino sistemato. Via libera. Nomad a terra. Predatore sistemato. Nomad eliminato. Agente speciale a terra. Prophet a terra. Potenziato un cazzo. Prophet eliminato. Prophet fottuto. Soldato a terra. Combattente eliminato. Soldato a terra. Uomo a terra. Cerberus distrutto. Cerberus eliminato. Cerberus nemico abbattuto. Cerberus neutralizzato. Tacom. Qui mi serve Cerberus. Schierate Cerberus. Cerberus al mio segnale. Tacom. Supporto Cerberus immediato. Cerberus nemico. Cerberus nemico. Fuoco. Distruggiamo quel Cerberus. Spaziamo via quel Cerberus. CUAV distrutto. CUAV abbattuto. CUAV terminato. Un UAV di disturbo in meno. Tacom. Schierare CUAV. Ruin richiede un CUAV in volo. Tacom. Schieramento CUAV autorizzato. Mi serve un UAV di disturbo. Abbattiamo quel CUAV. CUAV nemico lassù. Distruggiamo il loro UAV di disturbo. CUAV in volo. Dart nemico abbattuto. Dart eliminato. Dart nemico distrutto. Dart distrutto. Dart in volo. Dart attivo. Drone Dart partito. Dart lanciato. Arriva un Dart nemico. Dart in vista. Dart ostile. Arriva un Dart. Talon nemico rottamato. Talon eliminato. Talon al tappeto. Talon ostile eliminato. Richiedo schieramento Talon. Tacom. Voglio un Talon. Autorizzo schieramento scorta. Datemi un Talon. Talon ostile. Spaziamo via quel Talon. Un Talon ci spara. Talon nemico. Nucleo energetico nemico fermato. Nucleo energetico spento. Nucleo energetico fuori uso. Nucleo nemico distrutto. Schieramento nucleo energetico. Nucleo energetico online. Nucleo energetico schierato. Nucleo energetico attivo. Nucleo energetico nemico. Fuoco sul nucleo energetico. Nucleo energetico nemico avvistato. Il nucleo energetico mi incasina l'equipaggiamento. Guardian nemico eliminato. Guardian distrutto. Guardian eliminato. Guardian nemico fuori uso. Guardian in posizione. Soppressione attiva. Guardian attivato. Guardian in campo. Guardian ostile. Guardian nemico. Sistema Guardian ostile. Facciamo fuori quel Guardian. Hellstorm nemico distrutto. Hellstorm neutralizzato. Missile in arrivo abbattuto. Hellstorm spazzato via. Ruin richiede l'invio di un Hellstorm. Usare Hellstorm sul mio bersaglio. Richiedo attacco Hellstorm sul mio bersaglio. Lancio Hellstorm. Autorizzazione Ruin. Hellstorm in arrivo. Arriva un Hellstorm. Hellstorm. Al riparo. Arriva un Hellstorm. Mezzo RC nemico distrutto. V-Bed distrutto. HCXD andato. HCXD nemico distrutto. HCXD schierato. HCXD operativo. HCXD. Controllo il V-Bed. HCXD ostile. HCXD in arrivo. HCXD nemico avvistato. HCXD ostile. Tacom segnalo i bersagli. Autorizzare colpo fulminante. Richiedo supporto colpo fulminante. Colpo fulminante sui miei bersagli. Colpo fulminante in arrivo. Colpo fulminante in corso. Colpo fulminante su di noi. Colpo fulminante ostile. Mothership nemica distrutta. Abbattiamo quella Mothership. Mothership fuori dalle palle. Mothership ostile distrutta. Supporto Mothership autorizzato. Tacom qui serve una Mothership. Richiedo Mothership. Schierate Mothership qui in zona. Mothership ostile sopra di noi. Mothership nemica in sorvolo. Mothership in volo. Mothership! Distruggiamola! Approvvigionamento ostile intercettato. Mezzo di rifornimento nemico distrutto. Dovranno fare a meno di quelle scorte. Rifornimenti distrutti. Ruin richiede un approvvigionamento. Tacom inviare rifornimenti. Tacom qui servono approvvigionamenti. Ruin autorizza il rifornimento. Rifornimenti ostili. Quelle scorte saranno nostre. Prendiamo quelle scorte. Ecco un approvvigionamento nemico. Nave di lancio ostile abbattuta. Nave raps nemica neutralizzata. Problema raps risolto. Nave di lancio KO. Mezzo raps nel mio settore. Tacom mandateci dei raps. Autorizzo uso raps. Fateli rotolare. Tacom raps alle mie coordinate. Rotolanti nemici. Sono raps ostili. Raps in arrivo. Quelli sono raps. Robot ostile eliminato. Unità GE eliminata. Unità meccanica KO. Unità GE demolita. Ruin richiede supporto robotico a ore 6. Mandatemi un unità GE. Tacom richiedo supporto robotico. Ruin autorizza unità GE. Contatto unità GE. Unità GE in vista. Spaziamo via quell'unità GE. Unità GE in funzione. Carico vettore rombo di tuono. Tacom richiedo rombo di tuono. Serve subito un rombo di tuono. Tacom via rombo di tuono. Rombo di tuono. Rombo di tuono ostile. È un rombo di tuono. Sento un rombo di tuono. Torretta rinforzata distrutta. Torretta robot nemica distrutta. Torretta robot neutralizzata. Torretta ostile neutralizzata. Schieramento torretta rinforzata. Torretta attiva. Torretta rinforzata online. Torretta online. Torretta robot. Torretta ostile. Attenzione. Facciamo fuori quella torretta. Quella torretta rompe. Raite ostile eliminato. Drone stealth distrutto. Raite nemico neutralizzato. Raite distrutto. Tacom, mandateci un Raite. Raite autorizzazione ruin. Attività drone Raite autorizzata. Tacom, voglio un Raite in volo. Raite visibile. Raite in funzione. Raite ostile! Ecco un Raite nemico. UAV neutralizzato. UAV nemico abbattuto. UAV nemico distrutto. UAV colpito. Richiedo un UAV. Tacom, fornire supporto UAV. Mandate un UAV qui da me. Tacom, UAV di supporto. Neutralizzare l'UAV. UAV, sanno dove siamo. Buttiamo giù quell'UAV. Abbiamo un UAV nemico. Hater nemico abbattuto. Hater distrutto. Hater ostile eliminato. Hater neutralizzato. Tacom, schierare hater. Hater in campo. Tacom, ci servono dati hater. Autorizzo lancio hater. Hater ostile in volo. Il nemico ci spia. Un hater ci tiene d'occhio. Hater in zona. Abbattiamolo. Sta per saltare. Via da qui, subito. Salterai in aria. Muoversi. Scordati un saluto militare. Te lo meritavi. Offrirai da bere. Ben fatto. RPG! RPG, occhio! RPG in arrivo! RPG ostile! Semtex partita. Uso una Semtex. Tiro una Semtex. Lancio una Semtex. Semtex nemica. State lontani, state lontani! Merda! Non avvicinatevi! È una Semtex. Semtex! Scarica elettrica in uso. Ecco una scarica elettrica. Tiro una scarica elettrica. Scarica elettrica. Scarica elettrica neutralizzata. Scarica elettrica fuori uso. Scarica elettrica sistemata. La scarica elettrica è andata. Fumogeno lanciato. Fumogeno acceso. Affumichiamoli. Fumogeno! Guardate e imparate. Alla fine conta solo l'addestramento. In fondo ci sapete fare. Avete tirato fuori le palle. Tornate ad addestrarvi. Certo che siete davvero scarsi. Io vi seppellisco tutti. Tornerete a casa in una bara. Alleato a terra. Ma porca puttana! Fuoco! Fuoco amico! Tacom! Colpa del fuoco incrociato! Contatto! Una minaccia! Nemico localizzato. Versaglio. Combattente nemico. Nemico singolo! Vedo un nemico. Laggiù. Battuglia nemica! Nemico. Attaccare. Nemico armato. Cecchino! Cecchino! Giù la testa! Sistema trofi attivo. Trofi in funzione. Sistema trofi online. Trofi inserito. Sistema trofi nemico eliminato. Trofi ostile eliminato. Sistema trofi neutralizzato. Sì! Trofi eliminato!